Vogliamo di presentare a Clara un artista alla volta per darle un tempo di interiorizzare, pensare, assorbire e poi creare. Bettina è innamorata dell'arte di Basquiat da quando è piccola e nel Natale 2018 ha regalato a Clara una sua biografia. Clara ha potuto anche vedere da vicino alcune delle opere di Basquiat al Museo Moku ad Amsterdam e qualche giorno fa è arrivata a casa con questo autoritratto pieno di dettagli e colori che esprimono il suo essere e come vede se stessa. Appena Bettina ha visto questo quadro di Clara, la sua prima parola è stata Basquiat, da lì nasce il titolo Samo. Che ne dite? Grazie a tutti.